Qui sul canale questo è il mese delle abitudini, dello stile di vita, dell'analisi di come trascorriamo le nostre giornate, ormai lo sapete, è uscito Lifestyle Science, il mio videocorso insieme al mitico Valerio Rosso, proprio sullo stile di vita, come cambiarlo, migliorarlo, ottimizzarlo, e quindi il buon Dario mi ha detto Reaction, Reaction Time, questa volta Reaction a un video di Marco Montemagno, un video di qualche tempo fa che Dario mi ha passato, che io non ho visto, sulle abitudini, anzi le 5 abitudini che hanno cambiato la vita. Di Marco Montemagno, allora visto che parliamo di vita, di Lifestyle, di questo, di quell'altro, abbiamo pensato che fosse molto appropriato. Tra l'altro mi sa che non ho mai portato sul canale una Reaction a Montemagno, nonostante abbia parlato più volte anche di apprendimento, e va bene, ci sta, oggi inforchiamo gli occhiali e siamo pronti. Tra l'altro è da un po' che non seguo il buon Montemagno, sono iscritto al suo canale e devo dire che gli devo molto, perché nel lontano 2016 è stata proprio la sua facciona e la sua convinzione a convincermi a fare i video online, sono stato anche per un periodo nella sua community, quindi devo dire grazie a Marco Montemagno, probabilmente se non ci fosse stato lui non so se farei questo mestiere oggi, però è da un po' che non lo seguo. Quindi vediamoci questo video, vediamo che cosa dice, vediamo se sono d'accordo con le sue abitudini, se le condivido, se anch'io mi abitudino così, oppure no. Quindi 3, 2, 1, Reaction Time. Sapete come si dice, insomma, siamo il prodotto delle nostre abitudini ed è un'abitudine dire questa frase, ma è vera, abitudine numero uno che mi ha cambiato la vita è dormire. Sembra una banalità, come tutte le abitudini peraltro, sono cose semplici, non è che siano cose difficili, li ho visti e dicono, ma è ovvio. Fa dice due cose importantissime, a parte l'abitudine del sonno che adesso ne parliamo e sono d'accordissimo con lui, dormire meglio, dormire tanto, dormire in maniera sensata scientificamente mi ha cambiato la vita anche a me, ma soprattutto qui il buon Monti dice una cosa giustissima, il cambio delle abitudini, il cambio dello stile di vita non deve essere necessariamente qualche cosa di chissà misterioso, radicale, stranissimo, mai sentito prima. A volte sono quelle due o tre cose molto semplici, ma che noi tendiamo a trascurare, che poi hanno l'impatto maggiore sulla qualità delle nostre esistenze. Il sonno sicuramente è uno dei cinque pilastri dello stile di vita, come ci ha insegnato il buon Valerio Rosso, ed è veramente curarsene, fa tutta la differenza del mondo. Fallo, fallo, pivla, però dormire e dormire bene fa tutta la differenza del mondo, se avete dei dubbi in proposito o se eravate come me da sbarbato che credevo nell'idea del ma dormi quattro ore per notte perché sei un fenomeno, lavoro e poi dormo e mi sveglio e non bisogna dormire. Cazzate, cazzate qua che ci infilano il cervello, guardate semplicemente una mamma, i primi due anni, io con i figli vi garantisco guardate i primi due anni, qua in Inghilterra si definisce il baby brain, una donna al baby brain, non riesce a pensare. Abitudine numero due è l'esercizio fisico, ma voglio dire, anche questo è di una banalità ovvia, ma questo libro del Lazarus Strategy, del dottor No. Non ho letto il libro del Lazarus Strategy, ne ho sentito parlare, però qui Marco Montevagno sta attraversando i cinque pilastri dello stile di vita, sembra che abbia seguito Lifestyle Science, il nostro videocorso. Ovviamente il movimento fisico è un'altra di quelle cose semplici sulla carta, ma che se portate avanti con regolarità e con intenzionalità, ecco su questo il dottor Rosso mi ha veramente aperto una porta. Non è necessario, non è sufficiente muoversi, bisogna muoversi apposta, cioè bisogna veramente fare esercizio fisico, movimento fisico con l'intenzionalità di muoversi di più, con l'intenzione di cambiare un'abitudine. Ecco, anche questo chiaramente è un'abitudine che ha cambiato la vita e io nell'ultimo anno ho ricominciato finalmente a fare attività fisica e devo dire la verità, mi ha cambiato tantissimo. Al di là della soddisfazione personale che ti può dare, dell'aspetto estetico che comunque è importante, della sicurezza in te stesso, ma c'è anche proprio l'aspetto dell'energia. Mi sento meglio, mi sento più energico, è importante. Norman Lazarus, How to Age Well and Wisely, come invecchiare bene in modo saggio, è uscito da poco, ve lo suggerisco, è un libro di un ovvio clamoroso basato sulle sue ricerche scientifiche e dice tre cose semplici. Se vuoi invecchiare bene, evitando la maggior parte dei problemi, chiaramente quelli che puoi evitare, le sfighe capitano a tutti, vuoi evitare problemi di salute, quello che puoi evitare, fai così. Mangia bene, il giusto, non troppo, con moderazione, muoviti ogni giorno e tieni la mente allenata. Fine della ricetta? E dici, ma no, io cercavo la ricetta magica, segreta. No, tre cose, mangia con moderazione, tieni la mente allenata e muovi il culettino ogni giorno. Il problema Norman è che queste cose non le vuole fare nessuno perché sono pallose, nessuno le vuole fare. Ma sì, ma dimmi invece qual è un altro scorciatoio. Qua a Monti tocca un punto fondamentale, cioè il punto è che queste piccole abitudini sono abitudini da portare avanti per molto tempo e sono abitudini che non sono particolarmente sexy, capito? A tutti piace, a tutti si esaltano del metodo segreto, no, della cosa, la rivoluzione. Allora prova questa cosa qui, ti metti una bacca di ginepro in bocca e ti fai la doccia fredda a testa in giù e allora, miracolosa me, però nessuno c'ha voglia di andare in palestra tutti i giorni. Nessuno c'ha voglia di rinunciare alla fetta di soppressa alta così nostrana, padovana, di quelle buone. Nessuno c'ha voglia di rinunciare, di mangiare più verdura, più frutta, nessuno c'ha voglia di dormire meglio, di occuparsi di quello, tutti vogliono la pasticchetta, la cosa, eccetera. Questo è normale perché siamo tutti così, io per primo, però ha ragione Monti, le cose che funzionano sono sempre quelle, sono interessanti e sono a lungo termine, soprattutto. Che ci piaccia oppure no, è così che funziona. Coglietta, non c'è la scorciattoia, esercizioni di giorno. Peraltro un'abitudine ottima che sto prendendo ultimamente è quella di fare docce fredde con il metodo Wim Hof, non mi assumo nessuna responsabilità se fate la doccia fredda. Nel mio caso, devo dire, mi ha dato ottimi risultati, ottimi risultati, io ero sempre incasinato col freddo, vi ricordate? Ecco, qui da che io sappia, non sono un esperto in materia, però ne ho parlato con il buon dottor Rosso, da che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche solide che effettivamente fare le docce fredde, fare le immersioni nell'acqua gelida, buttarsi nella cascata innevata insieme a Wim Hof, nudi, tutte queste cose qui, portino effettivamente un beneficio di salute. Sicuramente ci si può abituare gradualmente al freddo, su questo non c'è alcun dubbio, però non sembra che ci sia un grande impatto o, insomma, se c'è, è un impatto molto piccolo. Quello però che è vero, e questo è assolutamente, ne abbiamo parlato anche col buon Andrea Muzzi in una live che abbiamo fatto insieme, è che farti la doccia fredda o comunque, in generale, abituarti a fare qualche cosa di difficile che il tuo corpo e la tua mente non hanno voglia di fare, ha dei vantaggi dal punto di vista psicologico, mentale, cioè è un po' una antiprocastinazione, tu ti abitui al fatto che, anche se non hai voglia di fare una cosa, riesci a vincere quella resistenza e a farlo lo stesso. Quindi da questo punto di vista diventi un pochettino più tosto, ecco, mentalmente, questo può essere l'effetto principale. Poi sugli effetti di salute, personalmente io non ne so abbastanza per esprimermi in maniera netta, però le persone che ho sentito erano abbastanza scettiche, ecco, sulla scientificità del metodo Wim Hof, però detto questo, comunque può aiutare appunto a essere un pochettino più presenti, più tosti, e in più sicuramente ti svegli alla mattina la doccia fredda e ti è una bella sberla in faccia. Detto tutto questo, col cavolo che io faccio le docce fredde, ti è, falle tu, Monti, falle anche per me, fatele voi, falle Andrea Muzzi, andate tutti a farvi il bagno gelido con Joe Rogan e Andrew Huberman, bravissimi, io, doccia calda, rilassante, nella doccia, sereno, bello, la vita è bella, sì. I video, c'avevo sempre la tosse così, so, è un anno e mezzo, un anno e mezzo, quando ho iniziato che non c'ho più niente, tocchiamo ferro, tocchiamo ferro. Poi mi sono messo lì a pendermi, Ido Portal, andatevi a vedere, spendi sette minuti al giorno non consecutivi, fare squat anche, cose super semplici, gratis, hai solo bisogno del tuo corpo, non hai bisogno di niente, non devi comprare niente, non devi fare nessun corso, quindi insomma, oltre all'attività fisica, che poi ognuno fa con il suo preparatore, in base al suo stato, però devo dire, muoversi ogni giorno, fare esercizio è garantito scientificamente che è una buona abitudine. Abitudine, tra l'altro, non so se la sapete questa cosa qui, ma non soltanto è una buona abitudine, ti fa sentire meglio, ti fa invecchiare meglio, eccetera, eccetera, ma il movimento fisico, l'alimentazione, il sonno, tutta questa roba qui, sono ottime anche per lo studio, nel senso che non soltanto ti aiutano a studiare meglio, a performare meglio quando stai studiando per gli esami, per l'interrogazione, per la verifica a scuola, questo e quell'altro, ma sono anche i migliori indicatori di invecchiamento mentale e della memoria, quindi il modo migliore per mantenere le nostre capacità cognitive e la nostra memoria andando avanti con l'età, sono fare esercizio fisico, sia aerobico che anaerobico, dormire bene, mangiare bene, muoversi e tendersi in attività anche mentale, questi sono veramente i pilastri anche per invecchiare meglio a livello proprio di capacità di ragionamento, di memorizzazione, di studio, eccetera. Il numero tre che mi fa dormire molto meglio la notte è quella di ricalibrarmi, ricalibrare quella che è una convinzione, ad esempio, per un periodo della mia vita ero ossessionato da una roba che non ho mai detto, il ping pong. Facciamo solo quello, parlavo solo di quello, pensavo solo di quello, era solo quello nella mia testa. Adesso invece non lo dice mai. Ero totalmente ossessionato, così come sono stato ossessionato dal lavoro, c'è solo quello, un martello pneumatico, bam bam bam, anche per necessità, c'è una lira e quindi sei ossessionato. Però ecco, negli ultimi anni ho messo in cantiere una costante ricalibrazione, che mi sembra un'ottima abitudine. Ti chiedi se sia la cosa giusta da fare ancora per te in quel momento della tua vita professionale, personale, è ancora giusto per te. Facciamo un esempio, Michael Jordan, tutti innamorati di Last Dance, anche a me è piaciuto molto, Last Dance bellissimo, però fermiamoci un secondo e mettiamoci nei panni di quelli che magari erano i figli di Michael Jordan, se aveva figli in quel momento, o la moglie di Michael Jordan, la finanzata di Michael Jordan. Cioè, una vita d'inferno. Qua mi fermo, mi è ritornata in mente un'intervista di qualche anno fa di Elon Musk, che raccontava che faceva multitasking, nel senso che quando stava coi figli rispondeva alle mail, perché era l'unico compito rispondere alle mail rapidamente, che potesse unire al tempo che passava con la sua famiglia, ed era una cosa abbastanza agghiacciante. Qui il buon Monty ha toccato un altro punto. Allora, io l'ho raccontato tante volte, sono di nuovo il tipo che si ossessiona, e mi ossessiono sempre, e sono sempre ossessionato da qualcosa o da più di una cosa contemporaneamente. Questo è un fatto, cioè io sono fatto così, è proprio la struttura della mia mente, e quindi sono ossessionato e basta. Tuttavia, effettivamente negli anni ho cercato attivamente di implementare delle strategie che mi impedissero di essere, uno, focalizzato su una sola cosa, adesso vi dico cosa intendo, e due, che quella singola cosa occupasse una porzione troppo esagerata della mia giornata. A me è successo tante volte che la mia ossessione diventasse monotematica e mi portasse a fare la stessa cosa per 15 ore al giorno. È stata prima la palestra, poi è stato il lavoro per tantissimo tempo, insomma, gli hobby, le passioni quando giocavo a carte, i giochi di carte, figuriamoci. Adesso quello che faccio è questo. Non posso togliere la mia mentalità ossessiva, perché sono proprio fatto così, però quello che posso fare è cercare di gestirla, darmi delle regole, quindi per esempio adesso non lavoro più dopo mangiato alla sera, se non in gravissimi casi, cerco di tenermi almeno una giornata alla settimana in cui non faccio assolutamente niente di lavoro, e spesso nel weekend l'altra giornata, almeno mezza giornata di pausa, e cerco di portare avanti più hobby contemporaneamente, altrimenti la mia testa veramente va a convergere su una sola cosa e divento troppo maniaco, e tra l'altro il bon monti giustamente dice che il prezzo da pagare non è solo il tuo personale, ma è anche quello delle persone che ti stanno intorno. Questo è importante, cioè il tuo stile di vita e le ossessioni che tu hai possono anche pesare poi su chi ti sta vicino. Questa è una cosa che in passato, e l'ho raccontato, insomma, è pesata molto su di me e sulle persone che mi stavano attorno, e quindi sicuramente è una cosa su cui ragionare. È una cosa che magari quando sei all'inizio del lavoro, della cosa, mi ricordo nel 2016, 17-18, in cui stava iniziando la mia attività, io facevo veramente solo quello, dalla mattina alla sera, e poi andando avanti, crescendo, capendo, vedendo che ci sono altre cose nella vita, uno un pochettino si ricalibra, no? Quindi finora, devo dire, siamo a metà video e tutto quello che dice il monti mi sembra assolutamente appropriato. Abitudine, numero, non mi ricordo che numero siamo, che mi ha cambiato la vita, è incassare le botte, non incassare i soldi, ma incassare le botte. È anche bello incassare i soldi, però incassare le botte, abituarti a incassare le legnate. Ho visto, guardate, in recente questo playbook con gli allenatori, tipo Doc Rivers, Mourinho, l'allenatore di Serena Williams, che danno una serie di riflessioni che possono essere utilizzate, ne avete tutti i giorni. È molto interessante se sei uno sportivo, esportivo, ti piace sicuro, playbook, no? Su Netflix. E il coach dell'NBA, Doc Rivers, diceva, oh, attenzione che champions get hit, cioè i campioni pigliano le legnate, ma la loro capacità è quella di incassare. Sembra una banalità, ma uno spesso se lo dimentica, cioè non è che Izzy Adesanya va dentro all'ottagono a legnarsi di bvuto. Che potente che è Israel Adesanya, grande, stylebender, poi un nerdone, un mangofilo, tantissimo, anime, Naruto, spettacolare. Se non seguite l'MMA, non sapete di cosa sto parlando, insomma, è uno dei campioni di MMA. Comunque è vero, la storia delle botte, avevo fatto anche un video tempo fa rispondendo alla challenge che mi aveva fatto Andrea Muzzi, proprio sui fallimenti, sui miei fallimenti, raccontavo, eccetera. Questa idea che le persone di successo, che tra l'altro è una definizione pessima per quanto mi riguarda, non sbagliano mai, non cadono mai, non fanno mai errori, non si prendono mai le legnate, non prendono mai il tram sui denti, come ci ricorda il buon Rick Dufer, sono tutte cazzate. Ovviamente, ovviamente sì. Questa cosa delle persone monolitiche che vincono è proprio una cazzata. Con uno che è gigante e inizia il combattimento pensando «Oh, ma qua io gli do un sacco di legnate, ma quello non mi sfiora mai». No! Entra nell'ottagono pensando «Quà, di sicuro, le piglio anch'io, però c'ho una strategia che gliene do di più e alla fine lo tiro giù il tizio». Oppure, il solito esempio, Muhammad Ali, ho visto il documentario un po' di tempo fa «Ma quante botte ha preso Muhammad Ali?» Una marea! Però, vedi le clipine su TikTok che ci sono tre che girano dove lui scriva tutto, scriva tutto, eh? Non lo prendi mai, non lo prendi mai. Sì, in quella clip, ma per il resto della sua carriera lo prendevano nei due minuti. La sua differenza era la capacità di incassare. Incassava, incassava, incassava e poi andava avanti uguale e poi riusciva a vincere uguale. Questa è la differenza. Che è una bella abitudine, cambia proprio la tua mentalità. Oh, intendiamoci, non è che sia piacevole perché le botte fanno male anche agli incassatori, però. Abitudine a incassare è notevolissima e incassare intendo tutto, e incassare le critiche, incassare gli sgambetti, incassare tutte le peggio porcate che subisce sul lavoro in continuazione in una carriera. Però, sempre Doc Rivers ha una bella frase. Quando dice che era successa una roba e lui ai giocatori dice Oh, io quando sognavo di diventare un grande dell'NBA questo tizio qua, general manager, non era nei miei sogni. Allora, se tu vuoi fare il cantante e sei online e fuffianetto 74 ti dice Oh, ma sei nel merda di cantante? Quando tu hai sognato di diventare un grande cantare a San Siro, fuffianetto della minchia, non era nei tuoi sogni. Per cui se ne può andare a quel paesaccio. Incassi perché sai benissimo dove vuoi arrivare. È un'abitudine. Poi non lo so quale altra abitudine. Non sono sicurissimo che sia un'abitudine. Lo vedo più come un elemento di mindset, se vogliamo, di ragione. Ma va bene, va bene, va bene. Ditemi le vostre nei commenti quali sono le abitudini che vi hanno cambiato l'esistenza. Stavo pensando che ho visto Patrick Muratoglou, Muratoglou, l'allenatore di Serena Williams, che anche lui ha un paio di frasi in cui mi ritrovo perfettamente. Una è l'abitudine ad allenarsi per ripetere in continuazione un gesto, non perché tu voglia necessariamente farlo diventare perfetto, ma perché vuoi che diventi un gesto automatico. Ecco, quello mi piace un sacco delle abitudini. La possibilità di arrivare a reagire in modo automatico nel modo in cui vorrei essere, al posto di rivedermi ogni volta e criticarmi e dire «Monti, ma perché non sei comportato così?» No, in automatico faccio la cosa giusta. E poi, non lo so, mille altre abitudini. Ci farò un altro video. «Everything depends on you». Questa è l'altra frasetta che dice, solita frasetta, tutti la sappiamo, assumiti le tue responsabilità, abituati a essere l'adulto nella stanza, queste robe qua, però lo teniamo per un altro video. Com'è che diceva Warren Buffett sulle abitudini? Le catene delle abitudini sono troppo leggere per essere avvertite. Finché, però, non diventano troppo pesanti per essere spezzate. Qua, qui la capacità di Montemagno di terminare i suoi video con la frase a... Mitico, mitico. Sì, l'ultima cosa che voglio dire è questa, che quello che è importante è che per cambiare le abitudini ci vuole una motivazione profonda, una motivazione intrinseca, un buon motivo per cambiare, altrimenti noi siamo esseri appunto molto pigri, molto abitudinari, resistenti al cambiamento. Quindi è chiaro che c'è bisogno di una forte spinta. E questo è il motivo per cui molto spesso bisogna ragionare sui motivi che ci portano a voler cambiare qualche cosa. Se non abbiamo chiaro il motivo, e la strada, e il percorso, difficilmente riusciremo a trasformare la nostra vita. Comunque, generale, qui il Monti ha detto solo cose su cui sono molto d'accordo, non sono d'accordissimo sul fatto che tutte le cose che ha detto siano delle abitudini. Cioè l'abitudine dovrebbe essere una roba che tu poi fai, no? Incassare le botte non è che è un'abitudine. Però comunque, il video mi è piaciuto, lui bravo, pelato, come sempre, ma è efficace e questo ci piace molto. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, ma soprattutto se volete trasformare in positivo le vostre abitudini, tra l'altro in parallelo col buon Montemaglio che dice più o meno le stesse cose, io vi consiglio Lifestyle Science, il nostro nuovo progetto con il dottor Valerio Rosso. Andiamo ad analizzare ogni aspetto delle abitudini proprio di stile di vita e le trasformiamo e diamo un boost veramente per migliorare la performance, per migliorare la lucidità, per migliorare le prestazioni nello studio, nel lavoro, ma soprattutto per migliorare il benessere, per stare meglio, per essere più sereni, più tranquilli, di buon umore, rilassati, gestire meglio lo stress e tutte queste cose qua. Il link è in descrizione. Grazie, naturalmente, Albon Monti per i 700 consigli che ha detto anche questa volta e per l'iniezione rotante, devastante di citazioni e di frasi a bomba. Ci vediamo alla prossima reaction pazzesco. Grazie a tutti.